Buonasera a tutti, conferenza stampa pre-gara, Ellas, Verona, Roma, posticipo di lunedì sera, ore 18.30, stadio Bentegodi, dodicesima giornata di Serie A. Mister Salvatore Bocchetti è a vostra disposizione, vi ricordo sempre un paio di domande a testa cortesemente. Iniziamo pure con Alessio Faccincani di Telearena, oggi è qui anche in versione dell'Arena, quindi va bene pure se fai la domanda in più. Buonasera, buonasera. Ciao, ciao mister. In assenza di un risultato positivo, ovviamente immagino che poi non sia mai facile provare a ripartire. La prima cosa che ti chiedo però è come hai visto la squadra a livello morale, se c'è quel sacro fuoco per uscire anche da questo momento. Che segnali poi hai ricevuto, mister? No, ma devo dire che i ragazzi, a parte martedì, comunque erano un po' giù di morale normalmente, come normale che sia, perché dopo una sconfitta è sempre dura, tra virgolette, ripartire. Però abbiamo analizzato gli errori, abbiamo rivisto le cose da non fare, da non ripetere e poi è chiaro lavorare anche sull'aspetto psicologico. I ragazzi sono stati, devo dire, dei professionisti esemplari perché comunque hanno fatto una settimana veramente di grandissimo livello. Per dare ulteriore forza, non so se ti sei anche ricordato di quello che è successo l'anno scorso con la Roma, quando arrivaste con Igor Tudor e da lì ci fu poi la svolta. Non so se in queste situazioni si va a ripescare un po' anche quelle cose lì, mister. Beh, la partita me la ricordavo, l'ho rivista, però comunque magari spero in un risultato del genere, poi è chiaro che sono due partite completamente diverse, mai vivere di ricordi, bisogna guardare avanti, cercare di fare una grande partita lunedì perché i ragazzi se lo meritano. A proposito di presente, si è tanto discusso, mister, della fase difensiva del Verona. Adesso che ci sia un po' più dentro questa squadra, sei qui da qualche settimana. Secondo te perché questa squadra ha subito e continua a subire poi così tanti gol? Ti sei dato una spiegazione, ci sono dei motivi secondo te? Sicuramente bisogna lavorare di più, se si prendono tanti gol un motivo ci sarà, quindi bisogna lavorare, non conosco altre strade credo, l'unico è quello di lavorare, analizzare gli errori, dove crescere tutti insieme, poi credo che i risultati arriveranno. Ti faccio una domanda più o meno sull'infermeria, l'ultima che ti chiedo, so che non vuoi dare nomi, però fammi un po' capire com'è il borsino, se stiamo un po' meglio oppure se c'è ancora qualche cosa che non va. Qualcosina c'è sempre che non va, però è chiaro che quando c'è sempre qualche infortunio dà un po' di squilibrio alla squadra, però bisogna sfruttare quello che si ha a disposizione, metterli nelle condizioni migliori per dare al massimo e sfruttare quello che si ha, tra virgolette sfruttare, chiaramente. Matteo Fontana, Gazzetta dello Sport e Corriere di Verona. Ciao, buonasera mister. Buonasera. La sfida con la Roma, la Roma arriva dalla partita vinta in Europa League con l'Elsinki, ecco una Roma come te l'aspetti ha perso con il Napoli, insomma il Napoli ne sta suonando. A destra manca, però ecco è anche un confronto per te con un gigante come José Mourinho, che dalla panchina da secondo l'hai battuto una volta e quasi anche una seconda all'Olimpico. Ti chiedo una valutazione sull'avversario e sul confronto con Mourinho. Beh, per quanto riguarda la Roma non la scopro di certo io, è una squadra fortissima con grandissimi giocatori in tutti i reparti, hanno un modo di giocare proprio della Roma, non c'è, hanno, sfruttano bene le caratteristiche degli attaccanti, degli esterni, comunque è una squadra forte secondo me. Ha avuto qualche difficoltà forse all'inizio a fare qualche gol, però comunque mi aspetto una squadra forte, che ha vinto una Coppa l'anno scorso, quindi poi, ripeto, guidata da un grandissimo allenatore, un'icona, diciamo, una leggenda per chi sta iniziando come me questa carriera che può solo ammirare, perché è un grandissimo allenatore, quindi sono tutte prerogative che fanno capire che una squadra è un allenatore di questo livello, sarà una partita molto difficile per noi. Mi sono preso, ho raccolto qualche numero delle tue prime due partite, che dicono che il Verona, beh, tra Milan e Sassuolo, 19 tiri col Milan, 13 con il Sassuolo, occasioni, poi, altrimenti non so come vengono computate, in realtà, a queste occasioni, comunque sono 15 con il Milan, 8 con il Sassuolo, tanti recuperi 61-60 con recuperi palla, uno col Milan, l'altro con il Sassuolo, insomma, la taglio corta, ecco, uno guarda queste statistiche e dice, beh, il Verona ha fatto indubbiamente delle buone prestazioni, però poi i risultati sono quelli e ti chiedo che cosa serve adesso, allora, per... Non ti chiedo di avere la capacità magica, però la tua visione, su che cosa devi lavorare, per andare oltre delle buone statistiche, ma il calcio non è fatto solo di statistiche, quindi, tutt'altro, e cominciare dalla partita di lunedì. Dalla lunedì, ci mancherebbe, no, no, fa piacere comunque, per le buone prestazioni di ragazzi, sia con il Milan che con Sassuolo, peccato che si è raccolto poco, anche dal punto di vista realizzativo, perché comunque recuperare così tanti palloni e sfruttarli, avere così tante occasioni e sfruttarle poco, cioè questo fa male, però io credo comunque sia la strada giusta, continuare a lavorare in questo modo, con questa cattiveria, con questa determinazione, poi non ci può andare sempre male, tra virgolette. Ci siamo andati vicini col Milan, siamo vicini col Sassuolo, però credo la strada sia giusta, io sono fiducioso, chiaro, diciamo, la classifica non è quella che meritiamo, è quella che mi aspettavo, però la strada è quella giusta, quello volevo dire. Luca Chiarini, Tutto Mercato Web. Ciao mister, buongiorno anche da parte mia. Le chiedo, abbiamo detto dell'attacco, pensa di operare qualche accorgimento in difesa, parlo non tanto di atteggiamento ma proprio di interpreti, o pensa che la continuità sia la strada giusta per trovare anche solidità nella fase di non possesso? No, sono d'accordo che comunque ci sia bisogno a volte di continuità, però comunque c'è anche bisogno di avere delle certezze, a volte bisogna magari vedere più interpreti prima di avere queste certezze, quindi abbiamo tanti difensori a disposizione, abbiamo anche qualcuno è rientrato da poco, quindi domani ci sarà l'ultimo allenamento della rifinitura e in base a quello anche decideremo. Ecco, le chiedo, nell'emergenza la fase più acuta, o meglio la zona più acuta, riguarda la catena di sinistra, spera di recuperare qualcuno, magari anche senza far nomi, ma uno tra Lazovic e Doig, spera o pensa di recuperarlo? Io comunque spero sempre di avere tutti a disposizione, quella è la prima cosa, perché comunque essere arrivato e avere 10-11 ragazzi ai box è sempre dura, però, un ripeto, ci sono tanti ragazzi che hanno voglia, voglia di far bene, quindi vedremo chi sarà a disposizione domani alla rifinitura, che è l'ultimo allenamento e poi fare le dovute decisioni. Gaudio Pedalino, RCS. Ciao mister, tu sei stato un grande difensore, perciò per te la difesa è il pane che si mangia. Ecco, riprendendo la domanda del collega prima, questa difesa, che cosa è che a giudizio tuo, che hai riabituato ad essere lì in mezzo, vedi, è disattenzione, è qualche volta inesperienza, o, come hai detto tu prima, bisogno di tanto lavoro? Secondo me due, c'è bisogno di tanto lavoro, perché poi, comunque, ritornare a quel tipo di calcio, tipo IEN, qualcuno, qualche nuovo che c'era, non l'ha fatto 100%, diciamo, con l'altro allenatore, quindi ritornare un'altra volta a fare determinate esercitazioni, riguardare determinati video, farli crescere anche sotto questo punto di vista, quindi migliorare quotidianamente, cioè non solo la domenica, cioè rivedere anche gli errori che si fanno comunque in allenamento, anche quello, secondo me, è fondamentale per la crescita, perché poi un discorso è iniziare dal ritiro insieme, un altro discorso è iniziare da una settimana, due settimane con questi ragazzi, quindi, comunque, anche per i nuovi, c'è bisogno un po' più di tempo, tra virgolette. La prima domanda che ti avevo fatto, ti ho detto, debuti con lo Stelvio, allora hai avuto lo Stelvio, poi hai avuto il Pordoi a Sassuolo, e adesso hai le tre cime di Lavaredo, ecco, sempre per rimanere in tema ciclistico. Sicuramente abbiamo visto la Roma, nelle sere fa, contro l'Helsinki, soprattutto hai visto dove si rende più pericolosa, dalle fasce, e poi con quel totem che hai in mezzo, che era mezzo addormentato fino a poco fa, e adesso si è tutto, si è svegliato purtroppo proprio in vista di Verona. Ecco, hai in mente qualche accorgimento particolare, o pensi che se la squadra fa quello che è la tua mentalità, cioè l'uomo su uomo, pressione alta, eccetera, puoi metterli in difficoltà? Ma sono tre, cioè c'è una squadra fortissima la Roma, gli attaccanti con gli esterni, è chiaro che bisognerà avere un occhio di riguardo per questi campioni, perché possono risolverti la partita da un momento all'altro. Ricordo l'anno scorso il primo gol di Pellegrini di Tacco, quindi speriamo che quest'anno, questa lunedì, magari questo non succeda e stiamo più attenti anche su queste situazioni.